buongiorno cuori buongiorno sarei pronta si la devo accompagnare a scuola grazie a mamma devo fare presto devo scendere a che ora ti sei svegliato alle 5 e mezzo perché dovevo pulire tutti i vetri del centro direzionale fare il casalinga è difficile bisogna organizzarsi per bene scusa mia sarà da che ora sta qua è dalle 5 e mezzo e beh comunque si deve prendere il latte ma il latte lo dovevo prendere dalla bottiglia o da sotto alla mucca è mia dove sta la tozza l'ho lavata ma era pulita e perché stava lì mi stavo preparando la colazione e scusate se non si capiva che era una tazza in attesa di colazione scusate la prossima volta metti il cartello torno subito allora io devo lavare sigaro cucinale io già non ce la faccio più hai preso il mio posto da 24 ore e già sei una casalinga disperata tale quale no invece si uguale alla nonna andiamo no invece �